Una delle cose che amo di più fare è passeggiare e possibilmente perdermi. Qui sono nel centro storico di Martina Franca e per il momento sembra disabitato, ma in realtà sono tutti rintanati o rifugiati, la gente si riposa, qui c'è un vicolo cieco, quindi abbiamo sbagliato. Mi piace perché mi dà la possibilità di ascoltare. Molti artisti scrivono andando in giro, viaggiando. A me piace attingere, a volte anche dal silenzio, dalla luce, dai colori, dal bianco e dalla purezza di questi posti. Facciamo piano perché questa è un'ora un po' particolare perché è l'ora della pennichella, ecco. Siamo chiari. Solo qualche bambino qui fuori. È sempre tutto bianco. Bianco, bianco. La rinascita comincia dal bianco. Io ho pittato per esempio le pareti di casa mia bianche. Mia nonna mi diceva, no, fanno le colorate che vanno di moda. In realtà proprio l'idea di ricominciare e di riattivare tutta la macchina. Qui deriva proprio dal fatto di voler fare un lavoro di pulizia. E c'è qualcosa di più pulito del bianco? No. Ciao. Ciao. Grazie.